Quadrifore è un istituto che si occupa di formazione del middle manager del terziario. Noi abbiamo 13.000 aziende scritte e 58.000 quadri, il che significa che abbiamo grandi, piccole, medie aziende di un po' di tutti i tipi e un po' di tutti i settori. Il modello dell'offerta formativa di Quadrifore è semplice e molto efficace. Le aziende del terziario, quindi ex contratto collettivo del commercio, hanno l'opportunità di versare a Quadrifore 75 euro l'anno per ogni quadro iscritto. Noi evidentemente facciamo evolvere questa offerta formativa e cerchiamo di consentire alle aziende piccole, medie e grandi, che attraverso i loro quadri di diventare più competitive su un mercato che chiede sempre di più alle aziende ed ai quadri. L'invito quindi che rivolgiamo alle aziende del terziario è quello di iscriversi. Pagando 75 euro hanno l'opportunità di far partecipare i loro quadri in nove città italiane a eventi formativi che sono d'avanguardia, che possono essere interessanti per far crescere le loro competenze e conoscenze. Farlo è semplicissimo, basta andare sul sito www.quadrifore.it e seguire le istruzioni online. Farlo è semplicissimo, basta andare sul sito www.quadrifore.it